Gino Sirci, presidente di questa Sirsef di Icona Perugia che oggi ha un po' fatto tremare nel primo set però poi è uscito fuori un palazzetto da brividi Un palazzetto così non l'avevamo mai visto in prima Evidentemente molti, tanti, hanno capito che vale la pena essere perugini Vale la pena di fare questa squadra meravigliosa Questo spettacolo potale, grande, che è la pallavolo La pallavolo è lo sport più bello del mondo Io penso che questo pubblico, questa prima, la dici lunga su quello che noi siamo e quelli che abbiamo voluto fare Grazie ancora a tutti che sono voluti intervenire qua Era auspicabile, ma te lo aspettavi un pienone così alla prima giornata, neanche in un match di cartello? Guarda, io quando martedì eravamo già 2.100 abbonati Quando martedì abbiamo venduto, già solo martedì, appena aperto il botteghino, 350 biglietti Ho capito che andavamo a fare il pieno Perché 350 biglietti il primo giorno, quando ce ne erano rimaste soltanto 2.000, è tanto Infatti poi abbiamo visto che i 4.000 li abbiamo fatti Ecco, avete visto? Questa è la tribuna a San Marco Noi che abbiamo tanto voluto, sospirato E questo, vede, era piena Questo vuol dire che siamo nel giusto Questo vuol dire che Perugia vuole essere presente Dobbiamo dargli l'opportunità Perché Perugia merita questo spettacolo